Continuità, questo il diktat scelto dal Murata per l'inizio della nuova stagione. C'è ancora Achille Fabri come tecnico, c'è ancora Eric Fedeli come punto di riferimento in attacco. Lo scorso anno i bianconeri avrebbero conquistato l'accesso ai play-off dopo alcuni anni di magra. Le buone prestazioni hanno quindi convinto la società a confermare lo zoccolo duro, a partire proprio dall'allenatore, vera e propria sorpresa, dell'ultimo campionato. Penso che la società abbia lavorato molto nel trovare come è nelle caratteristiche di questa società, ragazzi interessanti che possono fare per noi ma senza nomi altisonanti. Noi sappiamo che il nostro comandamento è lavoro, 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 lavoro e continuerei così a dire questo, cioè lavorare sul campo, giocare e cercare di fare bene come abbiamo fatto l'anno scorso. Il primo obiettivo quest'anno con il format diverso che per me è molto interessante è quello di andare dentro nelle 12 che disputeranno il play-off, quindi questo è il primo obiettivo, non si discute d'altro, cioè lasciare tre squadre dietro di noi. Nessun nome altisonante come detto da Fabri nel mercato del Murata, ma acquisti utili e mirati a rinforzare una rosa già competitiva. Dal domagnano è arrivato Stefano Sacco e da nuova Feltria il difensore Raffaello Rinaldi. Tra i colpi di mercato anche Diego Campidelli, ex Verucchio e vecchia conoscenza del calcio samarinese, con la maglia della Virtus. Mi aspetto, vedendo anche la squadra, comunque di far bene, di toglierci delle belle soddisfazioni. Il gruppo comunque è unito, sono restati parecchi giocatori dall'anno scorso, in più ci sono stati due o tre acquisti comunque importanti e dai, secondo me punteremo comunque a far bene e a toglierci delle belle soddisfazioni. Campionato che partirà il prossimo 12 settembre. Prima quindi diverse amichevoli interne per fedeli e compagni, rispettivamente contro Penna Rossa, Cailungo e Libertas.